Devo ometterlo, andava meglio quando c'era tua madre. Tra un mese farà freddo, ci deve essere rimasta un po' di legna in soffitta. L'ho sentito! Ne sei sicuro? Mappo! Perché continuo a tormentarci? Come scacciare un fantasma dalla casa. Assicurati che gli strani avvenimenti non siano dovuti all'infrasuono. Ci vorrebbe la piccoletta del film Pottergeist. Qui dice, tra le altre ipotesi, una visita psichiatrica. Sono io il matto, ma tu sei sveglia. E non ho memoria. Ma tu non sei pazza? Non ci capisco niente. Non ci capisco niente. Non ci capisco niente. Ehi, piccolino, tutto bene? Eh, l'ho visto, mi ha dato questa, che significa? E' mio padre. Ma io non l'ho mai visto il nonno. Non ho mai voluto che ti vedesse. Non andavi d'accordo con il nonno? Non andavamo d'accordo. Era cattivo? No. Spero che non sia cattivo adesso. Papà? E' ora. Dove andiamo? Devo andare. Fino adesso abbiamo giocato. Io e il nonno siamo complici. Giocato? Non ricordi proprio nulla, papà. Ma tu? Ma tu? Voglio venire con te. Non è ancora il tuo momento, papà. sì? No. Non ho in degree. Come ti accordo. Dav't ... Grazie a tutti.